In rappresentanza del 49% di preferenze alle urne per la prima volta uniti, le forze di opposizione in Consiglio Comunale tornano a chiedere al Sindaco di Pescara Carlo Masci l'avvio di un confronto unitario su PNRR Nuova Pescara. La rappresentante del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, propone la nascita di due commissioni consigliari permanenti. Perché l'importanza strategica del momento e dei fondi a disposizione diventerà ancora più importante se la Nuova Pescara, quindi con un comune più grande, fuso, saprà cogliere l'occasione. Ed è importante che la città di Pescara, attraverso una commissione istituita appositamente, produca quegli atti che portino poi finalmente ad una votazione, ad una decisione che arrivi a confermare l'istituzione del comune di Nuova Pescara il 1 gennaio 2023. In questi giorni, proprio in Consiglio Comunale, si sta discutendo il DUP, il documento unico di programmazione. Peccato, dice Marinella Sclocco, non si parli di questi due argomenti importanti. Solo grazie alla nostra opposizione, all'opposizione unita, siamo riusciti a far approvare degli emendamenti proprio in questo senso, cioè chiediamo al comune di Pescara di parlare, di cominciare a programmare questi fondi che arriveranno, proprio anche in vista della Nuova Pescara. Insomma, siamo molto preoccupati perché ci sono anche dei termini, ci saranno dei termini per la presentazione dei progetti, ma ripeto, nella città di questo non si parla. Il 1 gennaio 2023, come detto, dovrebbe riprendere vita la Nuova Pescara, ma di questo passo, afferma Marco Presutti, si rischia il commissariamento. Perché anche un po' in ragione, insomma, della pandemia, tutto quello che c'è stato, ma si è approfittato per non portare avanti questo processo nella concretezza. Invece è necessario farlo, anche perché altrimenti si avrà il commissariamento da parte della regione, sarebbe una sconfitta per la politica, ma soprattutto sarebbe una sconfitta per i cittadini che ci hanno eletto, che vogliono una nuova Pescara e vogliono che si faccia con il contributo di coloro che hanno scelto per rappresentarli. Grazie.